Qual è la situazione sull'accorpamento degli enti camerali tenendo conto che sono state fatte tante iniziative? Sì, ancora è in continua l'attenzione da parte delle Camere ricordanti rispetto alla riforma che non è completata ma continuano anche le pressioni da parte di un Camere nazionale nei confronti del Governo affinché si faccia un emendamento nel decreto mille proroghe al fine di commissariare quelle Camere che non si sono accorpate. Le ragioni e le motivazioni delle 19 Camere in Italia che non si sono accorpate sono di diverso tipo e abbiamo avviato, come si sa, un ricorso alla Corte Costituzionale che si dovrà esprimere l'8 di aprile ma Unione Camere vuole evitare che ci sia questo passaggio da parte della Corte Costituzionale con un decreto per superare quella fase. Noi ce ne siamo accorti ancora l'altro ieri di questa continua invasione da parte di Unione Camere nazionale rispetto a quelle che sono le attività che sono poste in essere da parte delle Camere ricorrenti. Abbiamo allertato tutti i parlamentari delle 19 province italiane, quindi anche quelle calabresi, sia di centrodestra, centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto anche grazie alle nostre parlamentari dei 5 Stelle di Crotone, finalmente il Ministro Patronelli ha ritirato l'emendamento che era inserito nel decreto Mille Prodeghe. È stato ritirato però c'è ancora una fase forse di confronto in Parlamento su questo decreto? Sì, c'è ancora una fase di confronto in Parlamento rispetto a questo tipo di attività che è stata messa in atto, ma non è detto che ancora il pericolo è totalmente scongiurato.